Dai, dentro il naso, dentro il naso Ci siamo, ci siamo, ci siamo Sì, perché la storia sta la storia Vittorio! Vedete il botteranno? Bella Vittorio Vittorio mi stava chiuso dentro la storia No, ma è così Adesso ci faccio il ragionamento su come la tiro fuori io Io non ho la forza nelle mani, questo è un problema, non ho la forza nelle mani E Nini, senti, stai in fe, va Sai cos'è? Che incide anche che lei c'è il rinforzo qua Capito? Che io non ho, è vero E non hai Esatto Ce la cambiamo? No, va bene, va bene Per quel secondo che dov'è farla fuori Questo la pieghi così, in modo che non ti incide E tu devi tirare questo Una volta che prendi questo C'è il compagno, basta, mi aiuto, eh Ha, ha, ha